... è quello che ti ho detto come dicevo prima questo che rischio esagerato ha fatto seconda te l'ho detto è rotto te l'ho detto la guidi perché poi si spegne come bello caldo il sole andiamo a bere adesso dopo dopo fate un'altra ora voi la nel buco cinque minuti di bello poi fate un'altra zona come l'altra volta mezz'ora andiamo se no vanno via tutti anche perché è una